Allora io gioco a palla a volo e volevo diventare come voi, come posso fare? Una cosa che ti posso dire che noi facciamo sempre è divertirci, non lo vediamo come un lavoro. Se c'hai il sorriso quando vai in palestra, se hai un obiettivo, è il tuo sogno, vivitelo senza troppi pesi, non viverlo con l'obiettivo troppo fisso che devi essere come noi, tu puoi essere te stessa e arrivare serenamente. Grazie.